Apple Vision Pro, ovvero il visore per realtà mista, aumentata e virtuale appena presentato dall'azienda con la mela al suo evento di giugno, la WWDC. Tutti quanti si chiedono e ci chiedono ma che cosa ci facciamo con questo visore da 3.499 dollari? Anzitutto, il prezzo sta lì già a dimostrarlo, non è un prodotto per lo meno in questa fase iniziale destinato al mercato di massa, ma è un prodotto per early adopter, ovvero per persone che sperimenteranno questa tecnologia investendoci di loro. Infatti, 3.500 dollari possono sembrare sono un prezzo assolutamente non alla portata del consumatore medio, ma il costo di questo dispositivo è così elevato anche rispetto alla concorrenza, ovvero ad Oculus e a PlayStation e ad altri marchi che sono su questo segmento di mercato da un po' di tempo, anche perché la tecnologia dentro questo visore Apple è un salto in avanti rispetto a tutto quello che si è visto finora. Va comunque tenuto sempre presente che per il momento, insomma, anche se ne venderanno probabilmente a milioni, non è un prodotto destinato al mercato di massa, ma è un prodotto che serve in qualche modo a definire un segmento di mercato per come lo intende Apple. Al di là del prezzo, la domanda che tutti si fanno e ci fanno è, che ci facciamo con questo visore Apple Vision Pro? Allora, Apple lo ha descritto, introdotto come un computer di prossima generazione, effettivamente è una sorta di computer che si indossa. Una volta messo il casco, si apre di fronte all'utente tutta una serie di possibilità, ovvero usare applicazioni, connettersi, insomma, tutto quello che si fa normalmente con un computer o con uno smartphone, però stavolta avendo le mani completamente libere. Ma sulle mani ci arriviamo adesso, perché le mani sono un elemento chiave dell'interfaccia. Non c'è più, infatti, necessità di controllare il dispositivo con un mouse o con un touchscreen, ma tutto viene fatto attraverso le telecamere che sono sullo chassis del dispositivo e anche sotto. Perché sono sotto? Perché così l'utente non è obbligato a muovere le braccia in avanti come fa Bragardi, insomma, come fa qualunque altro utente con altri dispositivi, ma può tenerle anche riposate qui sulla posizione classica dell'app, per cui muoversi attraverso le schermate e le possibilità dell'interazione offerte dal dispositivo non è affaticante per le braccia e questo è un elemento chiave. Altra innovazione fondamentale, il visore ha delle telecamere interne e oltre a un sistema di lenti che si adatta e che rende superfora la necessità di indossare gli occhiali per chi ne ha bisogno. Perché ci sono le telecamere interne? Perché così il sistema del visore Vision Pro può ricostruire in virtuale il volto dell'utente e far apparire all'esterno del visore un'immagine dello sguardo. Significa che chi guarderà una persona che indossa questo visore non avrà la classica impressione di trovarsi di fronte a una persona che non vede nulla, anzi in realtà guardando sul visore davanti vedrà lo sguardo dell'utente, così. Ecco appunto, una volta che questa barriera è stata rotta, insomma diciamo che questo tipo di dispositivi finora piuttosto relegati in una nicchia di mercato non intusiasmante potrebbe davvero fare il salto di qualità. Dopodiché l'esperienza utente, col visore addosso l'utente può fare davvero quello che vuole, quindi può lavorare, può guardare film in modalità cinematografica e con audio immersivo perché il visore ha degli speaker laterali che permettono questo tipo di funzionalità audio, può ovviamente giocare perché la parte entertainment sarà molto significativa per quello che riguarda il marketing di questo dispositivo e sostanzialmente può fare tutto quello che si fa con un computer o con uno smartphone, ovviamente con dei limiti che poi verranno probabilmente superati nel tempo, però sicuramente l'attività produttiva di base è garantita. Il visore può anche funzionare da estensione dello schermo del proprio computer, in questo caso un Mac, per cui si può lavorare con programmi anche complessi non dovendo necessariamente guardare un monitor ma avendo tutto a portata di occhio molto più vicino e in un modo sicuramente più riposante. Un inconveniente potrebbe essere il peso, alla lunga portare un visore potrebbe essere invece affaticante per il collo anche se l'esperienza è più riposante per le braccia, però sono tutte cose che si vedranno ovviamente con l'esperienza e con il progresso nell'uso. Ne sapremo di più ovviamente quando potremo metterci le mani sopra, quello che possiamo capire da quello che si è visto finora è che insomma che questo dispositivo Apple fa come tradizione dell'azienda della mela un salto avanti per quello che riguarda la tecnologia che adotta. Ovviamente siamo alla prima generazione e il prezzo sta lì a dimostrarlo. Quello che però è importante è che siamo in una dimensione nuova, cioè siamo in un contesto di computer completamente indossabile. Insomma è sicuramente un'idea, un vettore per superare il mercato degli smartphone che inizia ad essere oltre che stato insomma più o meno al plateau per quello che riguarda le possibilità di innovazione. Vedremo appunto.